È un po' che non portavo una configurazione, quindi ho detto, beh, portiamo una configurazione in previsione preestiva, magari, in previsione del, ah, mi stanno per promuovere, e allora, giustamente, insomma, magari appunto, quale occasione, se non punto, per regalarsi il PC per la promozione, diploma, un eventuale anche laurea, piccola citazione. Infatti oggi ho porto qui un PC con, proprio appunto, parlando di lauree e quant'altro, un PC con un budget iconico, ovvero il famoso PC 1000€, un PC che, come possiamo dire, il famoso budget della discordia, perché comunque per qualcuno è un PC che non è 4K ready, per qualcuno è un PC full HD only, chi più ne ha più ne metta, Ma, alla fine della fiera, comunque, quello che conta è quello che poi mettiamo dentro nella build. Per il ritorno delle configurazioni, per il ritorno del sottoscritto a pieno regime, che sto ancora cercando di trovare una quadra a livello organizzativo, non è una cosa facile, mi ci vorrà un po' di tempo. Abbiate pazienza, tutto troverà un nuovo assestamento, è solo questione del capire come, quando e perché. Comunque, io vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campagna notifiche e poi, ovviamente, non dimenticate di iscrivervi tutti gli altri social che sono qui sotto in descrizione, tra cui Instagram, TikTok e i vari canali Telegram, sia il mio canale pubblico, che poi tutti gli altri canali Telegram HVO, dove, appunto, potete trovare questi componenti e molti altri a prezzi molto appetitosi. Il PC da 1000€, come appunto vi ho già detto e come viene ribadito da, penso, sempre, è un budget della discordia, perché comunque, se vai da un negoziante, magari quello un po' meno fornito, ti esce fuori una configurazione che, molto probabilmente, non è in grado di gestire un Full HD in maniera totale. Tranne qualche, ovviamente, mosca bianca che ha lasciato delle belle perle o dei bei ricordi su qualche PC di qualche negoziante che, secondo me, appunto, meritano veramente tanto a livello proprio di plauso per, insomma, la configurazione che ci hanno proposto. È normale, invece, che facendolo solo per conto proprio, è possibile magari limare, giostrare e magari magheggiare e tirar fuori una build interessante, una build, magari, appunto, che ci permette di sfruttare il famoso rapporto euro per FPS spesi. Non è un rapporto che viene poco menzionato, ma è un, sì, il rapporto euro per FPS spesi, che poi dipende anche lì dal gioco che vai a prendere, perché è normale, se fai su Fortnite, magari, ne fai, o su Fortnite, su Valorant o su LOL, ne fai 2000 di FPS, il rapporto è enorme, poi magari vai su UnaWake, ne fai 30, il rapporto è tutta altra roba, però, vabbè, tarabaralla, siamo là. Comunque, direi di non perderci troppo in chiacchiere, di passare subito alla configurazione, perché comunque i componenti ci sono, si parla un po' di cose, di robe, robe a caso, di pindariche e pantagrueliche, quindi procediamo, processore, patatine edition, Ryzen 5 7600, Core 12 Thread, non vi dico più cosa c'è dentro, ma ormai stava stamattina a 168 euro da Amazon Germania, ora sta a 170, comunque, praticamente, per circa 180 euro spedito alla fine, comunque, vi viene fuori una cifra del genere da Amazon Germania, con adeguamento IV e tutto, 180 euro, che volete di più, un processore che, praticamente, viene incontro alle esigenze di tanti, tanti utenti, sia giocatori che non. Sempre dalla Germania andiamo a prendere una scheda madre, che è una serie nuova, tra virgolette, perché non è mai venuta prima, ma viene fuori adesso, sostanzialmente, ovvero la serie Eagle, che esisteva già per le schede video, ma per le schede madri che ho memoria, io no. Quindi sì, B650 Eagle AX, quindi abbiamo anche il famoso supporto Wi-Fi, Bluetooth, tutto, insomma, tutte le cose, per quanto riguarda il wireless, che a chi serve, a chi no, ed è comunque una scheda madre ben quarazzata, con ben 12 più 2, più 2 fasi, quindi, praticamente, è una scheda madre che si presta perfetta per questo processore, ma, anche se volessimo alzare la sticella e mettere, magari, anche, dei Ryzen 9, qui, ovviamente, il problema non c'è, ma neanche se vogliessimo fare un po' di overclock. Ovviamente, B650 sono ideali per la maggior parte dell'utenza. X670 e le serie E delle schede madri M5 sono più che altro relegate a chi fa un uso intensivo di linee PC Express, ma per il gamer, o comunque per l'utente mainstream, le B650 sono la cosa più perfetta per tutti. In questo caso, con le RAM, ho deciso di giocare un po' a ribasso, ma che tanto, alla fine, comunque, questo processore non ha problemi con questo kit, ma neanche con un kit leggermente un po' più spinto, ma per 108 euro che vengono fuori, le Crucial Pro 6000MHz CL30 stanno diventando le must-have di RAM entry-level, un rapporto non perfetto, 6000MHz CL36, però comunque, per l'utilizzo quotidiano, gaming normale, non si sentirà una grande differenza da un kit 6000MHz CL30. Se volete, potete alzare il budget, arrivare alle 6000MHz CL30, che oggi più o meno stanno sulle 140-150, poi vi metterò magari qui davanti l'immagina col prezzo più ideale, non sono RGB, ma sono dissipate, quindi comunque, poi Crucial, comunque crea sempre delle RAM con degli ottimi chip, quindi per gli smanettoni magari nulla vieta che si possa magari anche fare un tweaking della frequenza e della latenza per trovare una giusta quadra. Una cosa su cui non ho voluto badare a spesso è stata la NVMe, infatti ho messo la NVMe che è tornata in sconto da poco, l'XS70 di Silicon Power, un terabyte 4.0 dissipato, un NVMe top di gamma che è compatibile anche con PS5, è compatibile con tutto, e dà il massimo, non di RAMless, insomma è un top di gamma, non c'è da dire nient'altro, se non dire che a questa cifra, per i prezzi che ti stanno tenendo gli NVMe ultimamente, è un must-have. Parlando dell'alimentatore, qui ovviamente tasto che va da caso a caso, va da caso a caso, allora io qui vi ho messo il P650B, 70 euro circa da Amazon Italia, poi nel caso ci fossero proprio disponibilità estere, tipo come i Lightech GF Evo a volte che arriva a 60 euro dagli Amazon tedesco o francese, prendete magari i Lightech GF 650 Evo che sicuramente come qualità è superiore, 80 plus gold, però comunque per l'utilizzo normale anche il P650B non ha alcun tipo di problema. Allora, per quanto riguarda invece la scheda video, parliamo della RX 6750 XT, che è tornata in auge, perché adesso la troviamo sui circa 350 euro, e per il costo che ha, le prestazioni che offre, è una ottima GPU che si presta perfettamente per questa configurazione, che praticamente con questa scheda video diventa ideale per giocare in 1440p e magari utilizzando le tecnologie di FMF o FSR3 di potersi affacciare anche a un 4K con qualche piccola limatura di dettaglio, ovviamente. 12 GB di VRAM, in questo caso avete la modella XFX Quick 319, è un'ottima GPU. Nel caso volete alzare il baggio di circa una quarantina d'euro, più o meno, mettete la 6800 liscia, quindi nel senso o la 6750 XT o la 6800 liscia, quindi comunque avete due ottime schede video AMD. Se volete Nvidia, in questo momento il programma di Nvidia è che su questa fascia, che va dai 400 ai 350 euro, non c'è niente, o perlomeno trovate o la 4060 o la 4060 Ti, ma la 4060 Ti è trovata verso i 420 euro, modello 8 GB, mentre invece la 4060 la trovate che è un prezzo che va da 280 euro ai 330 per modelli quelli un po' più bianchi, quelli bianchi, modelli un pochino più particolari. Però, ripeto, secondo me le prestazioni sono letteralmente impari, quindi effettivamente qui AMD la fa da padrone con la 6800 e con la 6750 XT. Piccola parentesi post registrazione video, perché poi mi sono spunto, sono quasi uscite dopo che ho registrato il video. Nel caso ovviamente poi avete avuto fortuna e avete acquistato o la 3070 Ti o la 4070 Super da bombe offerte, ovviamente metteteci quella. È vero, costerà un pochino di più la build, però, ora, 3070 Ti magari se è in linea con le 6800, 6750 XT, insomma se è in linea su quella fascia là, la 4070 Super ovviamente è un altro pianeta come punto di prestazioni in generale. Ottimo acquisto. Per chiudere andiamo con il case, il Deepcool CC 560 a 70 euro. È un case praticamente entry level completo, con ben quattro ventole, in questo caso non sono RGB, volendo con 10 euro in più c'è la versione con le ventole ARGB, supporto di schede via fino a 370 mm, quindi tranquilli, le 6800 e 6750 XT ci entreranno perfettamente dentro la build, supporta arretatori fino a 360 mm, quindi c'è spazio per tutto, air flow in abbondanza e filter antipolvere, quindi effettivamente è un case ben costruito, ben fatto e funzionale. Come cosa finale, allora, si può mettere come non si può mettere, perché il dissipatore potete usare quello stock e salvarvi 30 euro, quindi rimanere entro i 1020, 1030 euro, oppure mettere 30 euro in più, arrivare a 1060, 1050 e mettersi il classicissimo Deepcool gamma XX400 a 30 euro, che per tenere fresco il 7600 va benissimo, però ripeto, rimane una cosa opzionale. Quindi, all'attuale costo, ovvero 23 maggio, il PCV costa circa, appunto, come ho detto, 3050 e 1060 euro, compreso di dissipatore, il che non è rientro, cioè, il che è perfetta come configurazione sui 1000 euro, in questo momento è difficile fare di meglio, o perlomeno si può fare di meglio, rimanendo dentro i 1000, però secondo me si sacrificano forse un po' troppe cose, ovvero magari dove scendere, magari scendere sulla scheda madre, prendere una proprio economica, ma secondo me, dopo ci percudiamo degli upgrade futuri, oppure magari prendere e virare su un case più economico, sì, potete magari virare su un case più economico, però, insomma, cerchiamo di dare anche un giusto equilibrio al tutto, e poi, vabbè, l'alimentatore, onestamente, io non andrei a tagliare tantissimo sull'alimentatore, ecco, quello su, quello io starei lì, cioè, non ci metterei tipo un ITK BD500, benché sia buono, l'ITK BD500 effettivamente qui potrebbe essere messo un po' alle strette, comunque, insomma, se vogliamo fare una bella build, facciamola bella equilibrata. E se consideriamo eventualmente, magari, la 6800, comunque, rimaniamo entro il 10% del margine, quindi, fonsi, 1100 euro in questo caso, perché, comunque, alla fine, ho detto, aggiungiamo circa 50 euro, quindi, 1050 più, arrivate a 1100, 1110, forse, ok? E siete praticamente pienamente nel budget, quindi, anche con un eventuale 6800. Questa, ovviamente, è una configurazione che si presta perfettamente per il gaming in 1440p, e anche farti giocare in 4K, perché, comunque, benché la serie 6000 inizia, comunque, avere i suoi famosi 2, 3, 3, 4 anni sul groppone, non è una... non sono schede di video così indietro. Considerate che oggi la 6800 equivale a una RX 7700 XT, e la 7700 XT oggi non è una schede di video così brutta. Non la consigliamo, semplicemente perché costa di più della 6800 e ha 4 GB di VRAM in meno. Quando la 6800 sparirà dal mercato e la 7700 inizierà a costare meno della 6800, sì, allora inizierà ad apparire anche nelle configurazioni, sia mie che nei canali, Telegram e quant'altro. Direi che non c'è intanto da dire, se non che questa, praticamente, come tela di vase, è veramente, veramente interessante, e, al di là, come vi ho già detto nello scorso video, il famoso discorso dell'aspettare, perché comprare... cioè, se una persona ha bisogno di comprare il PC perché ne ha bisogno e ne ha necessità, secondo me, comunque, questa è una configurazione che se te la fai oggi te sei tranquillo, perché comunque hai i M5 e puoi farti un upgrade, puoi cambiarti la scheda video con qualsiasi scheda video che tu voglia, perché comunque, metti caso, facciamo un esempio, compi la 6700 XT, fra un anno la 4080 la trovi a 700€, faccio un esempio balordo, ti vendi la 6750 XT e ti compi la 4080, ecco il fatto che hai praticamente fatto un upgrade al tuo PC, perché comunque hai fatto un salto della madonna con la scheda video, e comunque il PC non ha problemi a riguardo di potenza e tutto il resto, sì, sicuramente il P650B con la 4080 inizia a essere un po', sì, è un po' strettino la faccenda, quindi sicuramente magari sarà anche da valutare un cambio alimentatore, però comunque non mi armerai più di quel tanto, perché comunque se nel caso avete scelto il Litex 650E, il GF 650E, ma anche lì sono abbastanza tranquillo, comunque sono piattaforme che comunque reggono la sovrattenzione, quindi nel caso un po' di sovraccarico lo reggono, ecco, quindi nel caso un mese, se fate la spesa del mese, il mese dopo magari fate il cambio e state tranquilli lo stesso, non è qui il problem, quanto sono i tre fatti bene, che comunque di sicuro non vi danneggiano i componenti. Signori, io chiudo qui il video, mi raccomando, fatevi vedere sotto i commenti, cosa ne pensate, commentate, condividete, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!